La Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente, si è appena svolto il lab meeting sulla gestione delle risorse idriche, siamo insieme ad Andrea Bolognesi dell'Università di Bologna che ci spiega il suo intervento. Buongiorno, nell'intervento di oggi ho esposto la mappatura del servizio di depurazione in Italia che significa il numero degli impianti, la loro ubicazione, il loro stato e il loro livello. Per fare questo mi sono avvalso di dati pubblici disponibili su siti che il governo italiano ha messo recentemente a disposizione, quindi è stata anche un'occasione per diffondere l'esistenza e rendere partecipi l'esistenza di questi siti e queste informazioni a tutti i presenti in sala. Grazie a tutti.